Vado? Allora, Aike ha deciso di sostenere quest'anno il progetto Corri per la Vista di Fondazione. Oltre a una piccola donazione che abbiamo fatto a Fondazione, abbiamo deciso di coinvolgere un runner come si deve. E quindi qui con me c'è Christian, che peraltro è un caro vecchio amico e con questa occasione ho avuto modo di rincontrare. Come così? Perché hai accettato di darmi una mano? Fa sempre piacere condividere queste attività fatte per uno scopo nobile e poi anche perché Venezia è una bella corsa. Quindi impegnati di brutto per noi domani. Ci impegniamo doppiamente.